Che dia, una boccata d'aria, occhio al pilastro! Bistardi il pilastro! Via! Sotto il ponte! Wow! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 Online Come vedete, gare aeree con i caccia Via con il mega turbo che non esiste sugli aerei, però ci siamo Guarda quelli che hanno preso l'iperjet Io in teoria, con questo qui, dovrei essere un po' più veloce Dai, giù impicchiata, avanti! E quindi ragazzi, oggi che non toccarmi la maledetto bastardo Sono qui con questo video per annunciarvi che, essendo giovedì Stasera c'è la mia live Su Twitch, ragazzi, inizierà verso le 8 e mezza, 9 Adesso non so ancora di preciso bene quando riuscirò a liberarmi Comunque, quello già fumo nero, bene, quello già esplode Ve lo dirò ragazzi sulla pagina mia di Facebook Se in caso inizierò un po' prima Comunque alle 9 dovrei essere online E quindi vi aspetto veramente innumerosi Ole! Ole! Un altro che esplode, anche quello lì Dai, che tu esplodi, lo so già che con quel fumo nero lì Il tuo caccia non può andare molto lontano E si ragazzi, comunque vi volevo anche dire Che cercherò di portare ogni giorno, se riesco, video di GTA Perché so che vi piacciono tantissimi In questo periodo non ne ho fatti moltissimi E me lo chiedete veramente a gran voce Wow! E quindi Wow! Stiamo... Ole! È esploso, è esploso! Non è esploso! Dai, ma quel fumo nero lì Solo ragazzi a me capita Che quando ho il fumo nero il mio oggetto non va più da nessuna parte Bravo! Esplodi come solo te sai fare! E Bistard prende il comando Bastardo! Ed eccoci qua di nuovo in terza posizione Perché abbiamo perso tutto il vantaggio Come cavolo ha fatto? E so che quel giocatore mi conosce Quindi lo saluto Però porca vacca Come cavolo hai fatto a centrarmi Io venivo dalla destra, avevo io la precedenza Ole! Un altro che esplode Avanti così Esplodete come miniciccioli Telefono ragazzi Telefono Ma chi è che sta facendo tutto sto bordello? E si ragazzi Queste qui saranno gare Che cercherò di portarvi magari anche ogni giorno Perché appunto mi chiedete GTA a gran voce Voglio continuare Minecraft Fare altri video di Minecraft Tornerà la mia serie insieme a Stepney Non preoccupatevi Quello là è Im Inprendibile Ed ecco qui Beastard va In seconda posizione Ed eccoci qui Finalmente ragazzi Dopo millenni Non so neanche quanto tempo sia passato Ma veramente Non riuscivo più a trovare una sessione I giocatori che entrassero Cioè non so Non entrava più nessuno Non so se è perché Nessuno gli piace giocare a queste gare aeree A me piacciono un casino Sono cavolo Top Gun qua Via vola coltello Vai ci sto Vola coltello dall'altra Vai mi sfidate Eccoci qua Pronti E vi dicevo si ragazzi che torneranno i video Con tutti Fuochi d'artificio Ottimo Non erano in programma Ma è stato bello vederli Torneranno video insieme a tutti quanti Attenzione Eccoci qua Dai che quello esplode Eccolo lì Nessuno riesce a tenere Cioè è una gara semplicissima questa Non so la gente Esplode come popcorn Veramente Video spettacolari Vi stavo dicendo prima Se non mi ripeto Che cercherò di portarvi Un video al giorno di GTA Di gare Qualsiasi gara ragazzi Giusto perché GTA Vi piace tantissimo A me piace E anche se sono Gare con poche persone Ragazzi spero che vi piacciono ugualmente Perché non posso diventare matto A cercare lobby Con 30 persone Perché è veramente stra difficile Soprattutto Anche negli orari in cui gioco Perché capitano Magari no Non slisciare il checkpoint Wow Preso Spero di non farvi vomitare ragazzi Eccoci qua Perfetto Gas Preso Tutti vicini qua Via accelera Eccolo là sotto Io qui se non facessi una gara Mi farei il ponte Attenzione che qua c'è il pilastro Sotto sopra Però siccome voglio vincere la gara Vado dritto così Olè sotto il ponte fatto Un altro che si è suicidato Non è possibile E si è un video Cercherò continuamente ragazzi Minecraft GTA Poi a fine mese C'è Dying Light Che ho giocato a Colonia Al Gamescom Ed è una cosa Spettacolare Nuovo giro Anzi no Che cavolo dico ragazzi Al Gamescom Al Sì al Gamescom Sì Quello di Colonia L'anno scorso Ed è stupendo Ho parlato anche con gli sviluppatori Del gioco Mi avevano dato anche la maglietta Che ce l'ho qua dietro a casa Cioè Quel gioco lì Penso di farvi proprio Un walkthrough Spero anche di farvelo Magari in live Se siete d'accordo Fatemelo capire Sotto nei commenti Se volete che quel gioco lì Lo gioco appunto In live Con voi Spero di riuscire A mettere la webcam Di cercare un altro programma Che mi permetta Di utilizzare la webcam Nel migliore dei modi E poi deve essere stupendo Perché vi caricherò Se in caso In live Su Twitch Tutto il gioco Chiaramente perché Da adesso in poi Ogni Ogni Mia live Per chi se la perde Può andare su Twitch E rivedersele Tranquillamente E poi anche Ve la carico Su Youtube Quindi per chi si è perso La live Può rivedersela Tranquillamente Qua sul mio canale Ditemi se un'idea così Vi può piacere O se no Lo gioco ragazzi Facendo in episodi Qua su Youtube Tutto quanto Perché Dying Light È stupendo Spero poi che ci sia appunto L'online Stupendo ancora di più Perché è veramente Stupendo ragazzi È un giocone Quello lì che promette Tantissimo Spero che Non sia un flop Ma ne dubito Veramente Fortemente Perché da come ci ho giocato Io Impressioni Ottime Per chi Non sapesse Di cosa stia parlando Si guardi in internet Ragazzi Il gioco Perché Dovrebbe uscire a fine mese Spero di averlo In anteprima O comunque Nella data d'uscita Ragazzi Perché Quello lì Spero veramente Di Una boccata D'aria Occhio al pilastro Bistard il pilastro Via Sotto il ponte Wow Una boccata D'aria Ai giochi Perché C'è GTA Minecraft FIFA I principali Poi c'è il wrestling Che è ottimo Anche come gioco E noi siamo Sul traguardo Ragazzi E va a vincere Con un vantaggio Enorme Record mondiale Buono Ed eccoci qui Con una nuovissima gara Con i jet Per i passeggeri Con i jet privati Guardate dietro Che bordello Che c'è Attenzione Ci stanno venendo Tutti contro Qua esplodiamo Stammi lontano Stammi lontano Non mi toccare Lela Lala Che cavolo Ragazzi Tutti hanno preso Quello nuovo Da 16 persone No Quello ha preso Luxor Io ho preso Ragazzi Questo qua Che assomiglia A Luxor Quell'altro Che non mi ricordo Il nome Eccoci qua Dovremmo passare Anche sotto i ponti Quindi Sarà Uno si è già Schiantato Si è già Schiantato Non è possibile Io Con questo aereo Piccolino qua Dovrei Riuscire A farcela Non ci metto Non ci metto La mano Sul fuoco Perché Non si sa mai Ragazzi In GTA Cosa succede Soprattutto Con i concorrenti Che sono Molto Bastardi Allora Andiamo di qua Facciamo la nostra Bella curva Occhio alla palma Perfetto Continuiamo così Turbolenze Non ce n'è Quello lì Con l'aereo Rosso Però Mi sta Sorpassando Non devo Assolutamente Lasciargli Nessuno Spazio Curve Strette Veloci Radente Al suolo Vai Preso Anche questo Non riuscirai mai A sorpassarmi Bello Se non faccio Un errore Se sto sempre Dritto così Non perdo Troppo tempo Quello è inutile Che va su e giù Non riuscirai mai A sorpassarmi Eccolo lì Sotto il ponte Sotto il ponte Ole No 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 Bistard Che cavolo fai Dai Girati Con questo aereo Vai Accelera Dai avanti Beh questo qua Non va Non vola Sotto sopra Cavolo Dai Quello lì Pensavo che Quando L'ho toccavo Con l'ala Quando appunto Avevo toccato Con l'ala Che succedesse qualcosa Invece niente Ecco qui All'interno Dai Adesso lo tocco Ed esplodiamo entrambi Porca vacca Vai Prendili la scia Dai da sotto Quello ha allargato Quello ha allargato Bistard è in vantaggio No Per il muso Cavolo Qui ho allungato la scia Non è possibile Vai avanti Eh mi sorpassa Niente da fare Ragazzi Arriverò secondo In questa gara Arriverò Secondo Come Vi avevo Pronosticato No Maledetto Esplodi Come è arrivato Primo Ma non sono arrivato Secondo Fermi tutti Ragazzi Che Va bene Ho vinto GTA Ha capito Che Bistard Vince sempre Ed eccomi qui Ragazzi Forse Ho capito Il motivo Per cui Sono arrivato Primo Nella gara Di prima Se avete notato Negli ultimi Dieci metri Quello che Era davanti a me Ok Tutti qua Che mi riconoscono Via Bistard Scappa Ha fatto un volo Rovesciato E Quegli aerei Sotto sopra Non possono Volare E quindi Secondo la mia supposizione Lui facendo Per così dire Ragazzi il figo Andando sotto sopra Ha Perso Il checkpoint L'ha lisciato Completamente Quindi Non è riuscito A passare sul traguardo E quindi Sono arrivato io Primo Però questo Non giustifica Il perché Il gioco Segnasse appunto Quattro giocatori Al posto che Cinque O forse Se è schiantato E dalla rabbia Ha quittato Non lo so ragazzi Comunque mi sono dovuto Mettere anche Nascosto dal radar Perché Ragazzi siete Veramente assurdi Cioè mi fa Veramente Un piacere Immenso Che voi Mi riconoscete Nella lobby E poi veramente Tutti Spawnano Su di me E mi ritrovo Sempre Con cinque Sei persone Minimo Tutte attorno a me E via dicendo Però appunto Quando faccio i video Voglio stare un attimo Tranquillo E quindi Mi nascondo dal radar Così posso un attimo Parlarvi Dirvi un po' di cose E comunque ragazzi Lasciatemi tantissimi like Arriviamo a I video di GTA Ragazzi Devono assolutamente Arrivare almeno A 6.000 like 6-7.000 like Sotto ogni video di GTA Lo voglio assolutamente E categorico ragazzi Che cavolo fa quello Oh Qua sono tutti impazziti Vi ricordo che stasera Alle 9 Ci sarà la mia live Su Twitch Per tutti i link E via dicendo Ragazzi Sono tutti sotto Nella mia descrizione Quindi lasciate tantissimi like Commentate Iscrivetevi Alla mia pagina Facebook Che trovate Anche quella lì sotto Nella descrizione Al mio canale Qua da Bistarda È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video Grazie a tutti.